Quali sono i motivi per cui chiedete un consiglio comunale straordinario? Chieti ha sempre rappresentato un'eccellenza nel panorama sanitario regionale. Abbiamo sempre rappresentato la sanità in maniera eccellente, i cittadini della nostra città hanno sempre avuto servizi di grande qualità, sia all'interno dell'ospedale sia nell'assistenza extraospedaliera territoriale. Adesso siamo preoccupati che questa qualità sta un po' diminuendo per vari motivi, che ci sono alcuni servizi che potrebbero essere spostati dall'ospedale cricizzato di Codelare, che ricordiamo che è un ospedale universitario, presso altre strutture limitriche del territorio regionale. Quindi noi con questo consiglio comunale lanciamo un grido d'allarme per poter evitare questa espogliazione che va a ricadere sulla qualità dei servizi sanitari della città di Chieti. Voi vi rivolgete alla regione in particolare? Noi ci rivolgiamo alla regione certamente perché è l'organismo di organizzazione sanitaria sul territorio. Noi vogliamo che la sanità di Chieti rimanga una sanità di eccellenza, che i reparti non perdono la loro forza di assistenza per i cittadini di Chieti e per i cittadini delle zone limitrofe. Ecco, vogliamo che la città di Chieti rimanga centrale nell'ambito regionale della sanità. Grazie a tutti.